Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone bellissima di Mahmood che è Rapide. Bene ragazzi, nella strofa all'inizio troviamo due accordi che sono Do maggiore, Do Mi Sol, questo è il Do accanto ai due tasti neri a sinistra, poi avremo Fa maggiore, Do Re Mi Fa Fa La Do, forma il Fa maggiore e inizierà così la canzone. Bene, qua adesso mette il Mi Minore, Mi Sol Si e lo alterna con il Fa. Ok, fa questi due accordi e arriviamo finalmente al ritornello che fa La Minore, quindi se questo è il Do, Si La, La Do Mi, forma il La Minore, avremo ancora il Fa maggiore, prendiamo qua Fa La Do, ancora il Do maggiore proprio, e in più avremo il Sol maggiore, quindi questo è il Sol, Sol Si Re. E il ritornello fa così. Dimmi cosa c'è, lei vado a scendere, sono Rapide, chiuso nell'iride che scalerò, 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 come è buono, non lo so, dimmi te perché, mi ha fatto scendere, da una Mercedes, prendere un treno, perché ne so, questa notte mi perdonerò, nelle tue rapide non cadrò. Rimane sul Sol e poi riprende. Cosa farai se alle spalle lascerai Milano? Sempre facendo come l'inizio, Do e Fa, e va avanti così fino all'altro ritornello, che alla fine anziché rimanere sul Sol, metterà il Re Minore. Quindi Re, Fa, La e il Re Minore. E farà così. Questa notte mi perdonerò, nelle tue rapide non cadrò. Ok? E poi continua. Se ti chiedo di venere al mio cumpleanno, mi dici che, sul mio ultimo messaggio ci hai messo sopra una lapide. Facendo questi accordi, seguiteli. Quanti viaggi che ci mancavano, biglietti comprati all'ultimo, lasciati sopra col tavolo. Ora credimi se non ho più la paura di dirti, che la macchina parcheggiata sotto casa non so di chi. Non era niente, lo giuro, ma come si può chiamare il futuro? Rimane sul Fa e poi ancora. Dimmi cosa c'è? Ripeto il ritornello, tutto uguale, fino alla fine che fa una volta lo conclude con il La Minore e una volta lo conclude con il Do. Vi faccio sentire. E conclude con il Do maggiore. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte, io vi lascio comunque il link su dove trovare il testo con gli accordi, poi altri due link per imparare gli accordi al pianoforte, tutto in descrizione, e poi anche la diteggiatura per entrambe le mani. Ok? Ciao ciao, alla prossima!